Musica Buonasera e benvenuti al TG Prato. Rischio rivolta nelle aziende gestite da cinesi durante i controlli. Gli ispettori ASL che dal 1 settembre effettuano questo tipo di ispezione da soli hanno paura. Un problema che è stato affrontato stamani in prefettura durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Fare da soli controlli alle ditte gestite da cinesi potrebbe essere rischioso. Gli ispettori ASL hanno paura e anche la prefettura, come confermano fonti interne, teme per la loro incolumità e per i rischi legati all'ordine pubblico. L'argomento è stato al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolto stamani in prefettura. È bene specificare che dalla scorso 1 settembre, data di inizio dei controlli straordinari voluti dalla Regione Toscana sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'assunzione di 54 nuovi ispettori ASL, non si sono verificate criticità né aggressioni da parte dei gestori delle ditte sottoposte a controllo. Al momento il rischio di rivolte è solo sulla carta, ma ha delle fondamenta solide, perché la pressione esercitata sulla comunità imprenditoriale cinese è alta. Sul piatto ci sono i controlli interforzi che proseguono con cadenza bisettimanale, poi i controlli effettuati solo dalla Polizia Municipale di Prato sul fronte degli abusi di lizi e dell'illuso promiscuo dei capannoni, i blitz della Guardia di Finanza e ora anche le ispezioni della sola ASL, che secondo il programma della Regione passeranno dalle attuali 4 a ben 10 al giorno. Un martello pneumatico troppo pressante che potrebbe far scoppiare rivolte o reazioni non controllabili. Se dovesse succedere durante i controlli interforze, poco male, perché sono sempre presenti polizia o carabinieri. Situazione analoga per Polizia Municipale e Guardia di Finanza, che hanno gli strumenti e le capacità per intervenire. Ma cosa potrebbe accadere se qualche cinese dovesse rivoltarsi contro gli ispettori ASL quando operano da soli? I due vigili che li accompagnano in genere sorvegliano solo la fase delicatissima dell'accesso in azienda, poi vanno via. D'altronde gli organici delle forze dell'ordine pratesi sono ridotti all'osso ed è impossibile pensare di usare poliziotti, carabinieri e vigili per scortare gli ispettori per tutto il giorno. Al momento la situazione trovata è quella di uno stretto coordinamento quotidiano tra gli spostamenti degli ispettori ASL e le pattuglie delle forze dell'ordine presenti sul territorio, in modo da velocizzare eventuali interventi d'urgenza. Ma non è detto che in futuro possono essere trovate altre soluzioni, soprattutto guardando ai 10 controlli al giorno previsti da novembre, con preoccupazione. Nella riunione di stamani in prefettura si è parlato anche del caso del cosiddetto triangolo africano, via Cironi, Canta le Tregore, via Santa Margherita. Saranno potenziati i controlli in che senso? Nel senso di una particolare attenzione ai market etnici presenti in questa zona. Stretta sui negozi etnici presenti nel cosiddetto triangolo africano, dopo la rissa tra nigeriani scoppiata nella tarda mattinata del lunedì in via Santa Margherita davanti a uno di questi esercizi commerciali gestiti da connazionali. Un argomento che è stato al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto stamani in prefettura. Stretto il riservo delle forze dell'ordine su quanto è stato deciso, ma secondo quanto è trapelato l'idea è quella di passare al setaccio tutti i market etnici presenti nell'area rossa, con particolare attenzione a quello davanti al quale è avvenuta la rissa. Due le potenziali mosse in mano alle forze dell'ordine. La prima, se sarà accertata la presenza di alcol, la Polizia Municipale potrà chiudere il negozio per un paio di settimane in base al regolamento comunale che vieta la vendita di alcolici in quell'area. La seconda invece punta a scoprire se la rissa sia iniziata all'interno del market, anche se i titolari sostengono che sia avvenuto tutto all'esterno. Se questa circostanza venisse confermata, la questura potrebbe procedere a chiusura temporanea, sempre per 15 giorni, in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come già avvenuto più volte in questa zona. Nel frattempo i passaggi delle pattuglie continueranno a essere numerosi, come lo sono stati lunedì scorso, quando pochi minuti dopo l'allarme, ben sette pattuglie tra Polizia Carabinieri e Polizia Municipale sono arrivate sul posto. Dimostrazione questa che erano nelle immediate vicinanze. Un 36enne di nazionalità filippina è stato picchiato a sangue e rapinato dello stipendio che aveva appena incassato. Il brutto episodio sul quale stanno indagando i Carabinieri è avvenuto in via Muzzi questa mattina intorno alle 5. Il filippino è stato portato in ospedale in codice rosso. Per fortuna poi la situazione è apparsa meno grave. L'uomo è stato ricoverato in osservazione con una prognosi di 10 giorni. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo sia stato affrontato da un gruppo di nordafricani, due o tre, che lo hanno picchiato senza pietà per poi rapinarlo. E ora ci occupiamo del caso dell'attore comico Massimo Ceccherini, che ieri è stato sorpreso in via Valentini, completamente ubriaco. Uno scoop della nazione di cui ci parla Claudio Vannacci. Ma basta, lo dico, io lo dico, abito? E che cosa cucinate? Che cosa? Cosa cucinate di buono? Cane morto pechinese o tre involtini marci? L'attore fiorentino Massimo Ceccherini si è reso nuovamente protagonista di un fuori programma che ieri pomeriggio ha reso necessario anche l'intervento di una volante della polizia. E' accaduto in via Valentini, dove l'attore è stato segnalato in evidente stato di alterazione, forse a causa dell'abuso di alcol. La vicenda è raccontata dalla nazione di Prato e testimoniata da una serie di foto scattate dal fotoreporter Gianni Attalmi. Ceccherini si trovava all'altezza di Prato City e ha anche tentato più volte di attraversare pericolosamente la strada, al punto che passanti automobilisti hanno chiesto l'intervento del 113, ma nemmeno la presenza degli agenti è servita a tranquillizzare Ceccherini, fino a che è arrivato l'attore pratese Franco Casaglieri, amico del comico fiorentino, che l'ha fatto salire sulla sua auto per poi riportarlo a casa. Ancora un caso di bambini cinesi abbandonati a se stessi dopo quello di domenica scorsa. Anche stavolta sono stati gli agenti delle volante a intervenire dopo la segnalazione, ieri sera verso le 18, di due piccoli cinesi che si aggiravano da soli nei giardini pubblici di Borgo Nuovo. I poliziotti hanno subito trovato i piccoli, un maschietto di 4 anni e una femminuccia di 6, il padre, un 46 anni regolare in Italia, ma con precedenti era a casa che dormiva. Non solo gli agenti, controllando la casa risultata in uno stato di evidente degrado, hanno trovato in cucina alcune bustine contenenti chetamina. L'uomo è stato quindi denunciato per reato di abbandono di minori, ma anche per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. E ancora cronaca grazie al fiuto di un cane addestrato alla ricerca di stupefacenti. Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Iolo hanno arrestato un pregiudicato italiano di 28 anni. Il cane è entrato in azione durante un servizio di controllo del territorio e per il giovane spacciatore che aveva in tasca qualche dose di hashish non c'è stato scampo. Nella successiva perquisizione personale e domiciliare dell'uomo sono stati trovati altri 678 grammi di hashish destinata allo spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato e lo spacciatore è stato messo ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lasciamo la cronaca e occupiamoci di sicurezza idraulica di tutto il territorio provinciale perché c'è un pacchetto di 10 milioni di euro che vede interventi già in corso o in prossimità di partenza. Un pacchetto di lavori da 10 milioni di euro per la messa in sicurezza di Ombrone, Calice, Calicino, Bagnolo, Ficarello e Bisenzio. Tutti appaltati e qualcuno già in corso. Una bella eredità per chi tra poche settimane sarà chiamato a guidare la nuova provincia che diventerà ente di secondo livello non più scelto direttamente dai cittadini. L'attuale presidente Lamberto Gestri e il suo assessore Stefano Arighini hanno fatto il punto sul piano di interventi considerati strategici e indispensabili non solo per riparare ai danni subiti in questi ultimi anni di maltempo ma anche per potenziare gli strumenti in mano agli enti chiamati a gestire le emergenze. Un esempio per tutti il completamento della cassa di espansione a Ponte Attigliano per il torrente Ombrone che grazie ad una portata di 850.000 metri cubi di acqua il doppio dell'invaso della cassa di ponte alle vanne Grazie. 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 Grazie.